Sindaco tedesco, tavolo permanente, anche una task force per il coronavirus, però lei ha sottolineato più volte nel corso della conferenza stampa, non ci è nessun allarme? Tutto quanto è utile per prevenire e per essere pronti. Certo, noi ci auguriamo che tutte queste precauzioni non servano, però c'è un contesto nazionale che è preoccupante e quindi non possiamo prescindere da questo. Abbiamo aperto questo tavolo permanente, questo continuo contatto tra di noi per verificare e stare sul pezzo perché è necessario che siamo presenti in questo meccanismo che è un meccanismo indubbiamente preoccupante. Ma lo è in assoluto, non deve esserlo per i nostri concittadini che devono cercare, pur comprendendo le tensioni, quello che può inevitabilmente coinvolgere sul piano emotivo, che devono immaginare che tutto quello che pensano non è sempre corrispondente al vero, soprattutto laddove vengono portate avanti notizie non vere, laddove ci si trascina presso le fake news, laddove ci si trascina presso i social e tutto quello che si dice di non corretto. Quindi l'invito è alla tranquillità, alla moderazione, a segnalare perché tutto quello che viene segnalato viene portato all'attenzione degli organi competenti e degli organi sanitari. Io lo faccio personalmente, lo fa il vice sindaco, siamo operativi al 100%, però ripeto, con la massima serenità e la massima tranquillità. Evitiamo di accaparrarci scorte alimentari perché non sta scoppiando la guerra, evitiamo di fare cose che magari sono assolutamente inopportune, ragioniamo con tranquillità, vedremo gli sviluppi, però sappiate che siamo presenti e siamo operativi, come dicevo prima, al 100%, 24 ore su 24. Massimiliano Grasso, nessuna paranoia anche se saranno effettuali delle modifiche, come diceva lei nel suo intervento, all'esempio al pronto soccorso, qualora ce ne fosse la necessità, però non c'è nessun allarme, anche se dovessero esserci delle modifiche che sono necessarie. Assolutamente, le modifiche, come diceva il sindaco, rientrano in quel piano di prevenzione che è giusto che ci sia per non farsi trovare eventualmente impreparati, però il messaggio è quello di mantenere la calma. Nel caso dell'ospedale, proprio oggi era in corso una riunione in Regione Lazio che riguardava tutti i presidi ospedalieri, è chiaro che proprio per separare eventuali casi sospetti, eventuali pazienti che dovessero avere problemi respiratori che magari assolutamente non c'entrano neppure nulla con il coronavirus, per separarli però dal triage degli altri pazienti del pronto soccorso verranno allestite delle tende dove appunto chi presenti determinati sintomi potrà essere visitato a parte. Si tratta solo di questo, si tratta di prevenzione, quindi non bisogna sicuramente andare dietro alle fake news o agli allarmismi che circolano su Facebook in modo del tutto incontrollato. A Civitavecchia ad oggi non ci sono casi di nessun tipo assolutamente riconducibili al coronavirus e quindi bisogna mantenere la calma, nella consapevolezza che siamo di fronte a una epidemia influenzale che è un'emergenza comunque nazionale, però non bisogna neppure lasciarsi andare a psicosi o esterismi collettivi che sicuramente produrrebbero un effetto peggiore e produrrebbero dei danni in ogni senso.